Grande soddisfazione per noi questo momento perché si integra veramente l'attività assistenziale a quella della ricerca e ci apre della prospettiva sia per l'attrattività ma anche per il trattenimento perché può diventare una carriera interessante anche per alcuni giovani che sono presenti e che lavorano nei nostri servizi. Quindi momento fondamentale che si integra con il piano strategico e la riorganizzazione aziendale.